Una storia all'altra questa mattina all'interno di Detto Tra Noi, abbiamo parlato della storia di questo secolo attraverso il lavoro di Alberto Poppi, invece adesso andiamo parecchio indietro nel tempo e nei secoli per in realtà rimanere comunque sempre a cavallo tra Modena e Bologna. Lo facciamo percorrendo ancora una volta con grande piacere l'attività dell'archivio storico di Modena rappresentato questa mattina dalle mie prossime ospiti, buongiorno, benvenuto ad Euride Freni che è la direttrice dell'archivio di Stato di Modena e Patrizia Cremonini invece vice direttrice dello stesso archivio di Stato di Modena. Io sono molto contenta di avervi nuovamente qui, miei ospiti perché appunto significa che l'attività di questo luogo che davvero i più forse devono scoprire, devono anche capire che cosa rappresenti nella nostra realtà, l'archivio di Stato continua, prosegue la propria attività anche di divulgazione insomma del proprio immenso patrimonio. E c'è una particolarità insomma che viene colta attraverso questa nuova iniziativa che è una mostra, una mostra che ha un titolo davvero ovviamente affascinante, essendo particolarmente suggestiva la materia che va a trattare. Il titolo, appunto il progetto entro cui rientra questa mostra è il confine che non c'è, bolognesi e modenesi uniti nella terra di mezzo, in modo particolare in questo caso ci si sofferma sulla presenza dei documenti che testimoniano il passaggio dell'inquisizione, del tribunale dell'inquisizione appunto tra Modena e Bologna a cavallo tra il 1600 e il 1700, giusto direttrice? La particolarità e ciò che ci ha permesso di fare questo studio, questa mostra è il fatto che l'archivio di Stato conserva l'archivio del tribunale dell'inquisizione di Modena. È una cosa eccezionale che una istituzione laica conservi materiali di questo genere. Normalmente tutti i fondi archivistici dei tribunali dell'inquisizione sono confluiti a Roma nell'archivio della congregazione del Santo Uffizio. È un caso particolare, quello modenese, sono soltanto due i fondi archivistici dei tribunali dell'inquisizione conservati in archivi di Stato, quello di Modena e quello di Venezia. Esatto, quindi un'eccezione già di terza. Con eccezione dovuta alla vicenda particolare legata alla soppressione del tribunale nel 1785 da parte di Ercole III che dalla sera alla mattina, approfittando della morte dell'ultimo inquisitore di Modena, il 6 settembre del 1785 è soppresso il tribunale e incamerò tutte le carte del tribunale che vennero poi risistemate dall'archivista ducale Pellegrino Loschi. E questo ci ha permesso di approfondire questo tema e di realizzare questa mostra, la cui curatrice è appunto Patrizia Cremonini, che ce la può illustrare abbastanza bene. Esatto, una mostra che rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo settembre, quindi insomma il 20 settembre, quindi c'è tempo, il titolo particolarmente suggestivo dicevo Eresie e magie tra Modena e Bologna, devo dire che questo è un tema che insomma il passare dei secoli davvero non ha cancellato nel proprio fascino e anche nella presa che ha sulla gente comune, Insomma il tema della magia a cavallo tra realtà e eresia, il modo in cui la società accoglie e demonizza insomma tutto ciò che è al confine tra il vero e il magico, insomma è davvero un aspetto molto interessante ancora oggi. Indubbiamente, forse vorrei anche anticipare una cosa, cioè il fatto che questo è un progetto, questa iniziativa in realtà rientra in un progetto più ampio di durata triennale che abbiamo promosso in collaborazione con due partner oltre confine, diciamo bolognesi, quindi il comune di San Giovanni in Persiceto e il consorzio dei partecipanti di San Giovanni in Persiceto e questo perché il nostro obiettivo è quello di indagare questa fascia di cerniera che attualmente funziona solo come pacifico confine tra province ma in passato è stato un confine politico, militare molto rilevante e l'obiettivo è una fascia tra l'altro in cui in passato è caratterizzata diciamo da uno sconfinamento modenese, insomma da una contaminazione modenese e come il primo tema è stato proprio l'inquisizione perché sapevamo per certo che tra 600 e 700 è documentata questa lunga mano dell'inquisizione nel bolognese e questo perché l'inquisizione di Modena legittimamente si estendeva sulla diocesi di Nonantola che comprendeva anche Crevalcore per cui attraverso l'indagine d'archivio abbiamo recuperato in effetti casi processuali di Crevalcore e di Persiceto tra 600 e 700 abbiamo selezionato solo 14 casi quindi un numero veramente esiguo se si considera che i fascicoli processuali conservati nell'archivio sono 5.185 fascicoli che danno conto di oltre 6.000 casi individuali quindi un panorama straordinario Certo, se consideriamo anche la ristrettezza se così vogliamo dire del territorio entro cui si descrive insomma 6.000 casi tra Modena e Bologna Ristrettezza, cioè pensando alla giurisdizione che aveva consideriamo che l'inquisizione di Modena copriva le diocesi di Modena Carpi, Garfagnana e Nonantola e dal 1780 si amplia anche su Reggio Mirandola-Sassuolo Comunque 6.000 casi insomma credo che possono essere pochi Posso aggiungere che con questi 14 casi abbiamo esposto 8 situazioni femminili Quindi sono donne di Crevalcore e San Giovanni, 4 sono guaritrici, 2 malefiche e 2 ammagliatrici La differenza tra malefiche e ammagliatrici è che le prime potevano provocare con i sortilegi il male e morte Le ammagliatrici semplicemente cercavano di far innamorare E gli altri casi invece riguardano gli uomini prevalentemente impegnati nella ricerca di tesori nascosti Attraverso, ricorrendo però all'aiuto del demonio Allora, entrando nel caso credo che sia necessario fare invece un passo indietro Per illustrare brevissimamente ai più insomma che cosa rappresenta il Tribunale dell'Inquisizione Che tipo di cultura porta dietro di sé anche che obiettivi in questo tempo e anche in questi luoghi Insomma che cosa ha rappresentato il fatto anche che spesso le donne fossero prese anche di mira nell'attività di questo Tribunale Penso che la caratteristica principale, quella che distingue questo materiale dai fondi giudiziari generali Sia il fatto che i reati perseguiti sono forse più reati d'opinione Non sono omicidi, non sono furti, sono contravvenire alle regole sociali Esatto E quindi il controllo sociale, l'aspetto interessante è proprio perché emergono usi e costumi Non è un caso poi che ci sia questa forte presenza tra i rei delle donne Sì Tra l'altro una cosa interessante che è venuto fuori molto bene Soprattutto nei casi delle guaritrici, delle pozioni E come in realtà siano pratiche di tipo farmaceutico E sono sempre le donne che vengono accusate di questo tipo di reato Se pensiamo che proprio l'archivio comunale nella scorsa stagione Ha promosso questa serie di conferenze dedicate all'ateriaca A questa pozione magica Fatta da uomini Certo Riconosciuti eccetera Ma andiamo su una cosa parallela È chiaro E questo è un aspetto interessante Sì, molto affascinante Nella serie di conferenze che abbiamo organizzato insieme ai partner del confine che non c'è Quella dedicata appunto all'8 maggio è stata vedere come questo tipo di situazioni oggi Si sia evoluta nella professione dell'erborista Giusto, è vero O dell'afitoterapeuta Certo, è un filone insomma Un filone Chiaro, in chiave assolutamente contemporanea Che comunque prosegue da allora Come vengono affrontati questi 14 casi nell'ambito della mostra e dell'esposizione? Come vengono raccontati anche? Noi abbiamo esposto i fascicoli processuali Consideriamo che i fascicoli processuali danno, attestano quello che era la procedura del processo Sì E quindi iniziano solitamente con delazioni Sì La delazione era uno dei modi con cui poteva iniziare l'attività inquisitoriale Che era sollecitata attraverso dei bandi Bandi generali o la bando di grazia dell'inquisitore generale I delatori aderivano a questa imposizione anche perché se non comunicavano rapidamente di situazioni in odore di eresia Potevano essi stessi diventare oggetto dell'inquisizione Quindi nel processo troviamo spesso lettere di delazione oppure l'istruttoria che facevano i vicari In genere i parroci delle vicarie che avevano il compito appunto di raccogliere gli indissi da comunicare all'inquisitore generale Seguiva poi l'incarceramento del reo che già fin dall'inizio veniva definito tale a priori Un periodo di incarceramento che serviva a minarne lo spirito fondamentalmente E senza informarlo dei capi d'accusa Naturalmente era lo scuro anche del delatore Cioè il delatore aveva la garanzia dell'anonimato Poi veniva informato appunto del reato Commesso poteva scegliere un avvocato se voleva Oppure c'è un avvocato d'ufficio Che poteva venire a conoscenza anche delle denunce Ma sempre in forma anonima E abbiamo il resoconto, il verbale Ecco nel fascicolo c'è il verbale dell'interrogatorio Redatto dal notaio che era sempre al fianco dell'inquisitore Le domande dell'inquisitore sono rigorosamente in latino La risposta è in volgare E diventa utilissimo perché talvolta troviamo anche delle espressioni desuete Modi espressivi ormai scomparsi Credo che i livelli di interesse rispetto a questo materiale Siano infiniti, da quello linguistico a quello storico Stanno inquadrando i corpi del reato Talvolta allegati al fascicolo processuale Ci sono i corpi del reato Che vengono mostrati in questa esposizione Esatto, sì Ad esempio? Oggetti che spesso sono formule magiche Oppure oggetti che erano stati utilizzati per i riti Insomma, che diventano le prove d'accusa e di conferma del reato commesso E poi abbiamo esposto naturalmente anche i bandi Di cui dicevo prima Bandi di grazia o bandi generali E c'è un commento Abbiamo commentato ogni caso Pannelli In alcuni pannelli abbiamo esposto in modo dettagliato La vicenda di ciascuno di queste persone Come si sono conclusi questi 14 casi? Con delle pene Delle pene Ovviamente Condanne Condanne, certo Tutti e 14, nessuna soluzione? Sì, nessuna soluzione Nessuna soluzione Solitamente era così Insomma, c'era comunque una condanna Più lieve o più grave Secondo delle situazioni In questo caso prevalentemente sono pene salutari Insomma, viene imposto il digiuno Preghiere Preghiere soprattutto da fare Davanti ad ogni immagine sacra Per un certo periodo di tempo E pene che devono essere sempre pubbliche Ecco, l'importante era anche questo aspetto di dare un esempio A tutti insomma Che potesse essere proprio da monito Anche l'esecuzione di una pena doveva essere assolutamente condivisa Per completare la risposta Sì Alla sua domanda Devo dire che abbiamo un caso invece che riesce felicemente Nel senso che l'inquisizione Quando la macchina inquisitoriale Raggiunge, cerca di raggiungere In questo caso è una malefica Di toccare tanti livelli di interesse Per un'esposizione come questa Per uno studio come questo Un altro aspetto interessante Dovuto proprio alla modalità con cui sono state incamerate le carte dell'inquisizione E il fatto di avere i manuali di istruzione degli inquisitori Cioè come si forma Dove studiava l'inquisitore per diventare un inquisitore Interessante questo È una cosa particolare Su un aspetto che solitamente non viene affrontato No, di solito si guarda appunto il processo All'effetto dell'attività Ma come viene formato E dove si forma Questi manuali che sono esposti E che probabilmente come ipotesi anche di Rosa Lupoli Che ha studiato in particolare questa sezione Dovevano essere probabilmente proprio tenuti sulle scrivenie degli inquisitori Proprio come strumento di lavoro Anche di consultazione Di consultazione Eccetera È un aspetto molto interessante I manuali in realtà erano confluiti diciamo nella biblioteca dell'archivio di Stato Senza una precisa distinzione rispetto al resto del patrimonio Probabilmente nella seconda metà dell'Ottocento Quando si è andata a costituire la biblioteca Dell'istituto archivistico I archivisti bibliotecari di allora hanno operato una distinzione sulla base del materiale Quindi il materiale librario è diventato materiale di biblioteca Senza tener conto del legame con il fondo archivistico E le motivazioni della provenienza È stato merito di Rosa Lupoli Riportarli, individuarli E ricollegarli al fondo Quindi questo ha permesso nella prima sezione della mostra Che è specificamente della mostra modenese Perché nella mostra che è allestita a San Giovanni E quindi nel catalogo questa parte non è presente Ma è descritta abbastanza bene nella guida Si vede proprio anche come funzionava il tribunale materialmente come istituzione E anche appunto come si va a formare la figura dell'inquisitore Che in realtà il processo inquisitoriale sembra essere stato poi Veramente la forma di processo più studiato Cioè più studiato nelle sue modalità E tanto da diventare un modello per i processi civili Ah ecco, addirittura È proprio questa modalità Quindi questo insomma ci fa capire come Insomma il materiale in esposizione E più in generale conservato presso l'archivio di Stato di Modena Una condizione che lo ribadiamo Il nostro archivio condivide con la sola Venezia Se non vado errato Ecco, insomma ci mette nella posizione davvero di poter disporre di un materiale assolutamente interessante Anche proprio per lo studio che tuttora continua e prosegue appunto Di questo momento insomma del nostro passato È una grande ricchezza Questo ulteriore aspetto, dottoressa Cremonini Quello della formazione anche di coloro che operano all'interno del tribunale dell'inquisizione È un ulteriore arricchimento Per questo Per la conoscenza Per la conoscenza Di questo fenomeno Insomma di questa realtà Certo, certo Il fatto che l'archivio sia in assoluto tra i più E tra i complessi più integri che si siano conservati fino ad oggi Ne fa uno strumento fondamentale per esaminare l'evoluzione dell'inquisizione Sì Consideriamo che la nostra documentazione è data dal 1329 In realtà noi sappiamo attraverso fonti che una domus inquisitionis a Modena è attestata già nel 1299 Quindi fin dagli albori Sì esatto Epoca in cui in realtà era sede di una vicaria diciamo perché l'inquisizione principale aveva sede a Ferrara, capitale degli stati estensi Sarà solamente col trasferimento a Modena della capitale che anche Modena avrà una sede dell'inquisizione generale Consideriamo quindi il lungo, lunghissimo lasso di tempo, insomma cinque secoli almeno Visto che l'inquisizione affidata ai Domenicani insomma viene abolita da Ercole III appunto nel 1785 Ci dà l'idea della parabola lunghissima della documentazione che ci permette oltretutto di indagare sia il periodo medievale Che ha una caratteristica ben precisa, cioè un periodo in cui l'inquisizione ha un carattere di eccezionalità e di emergenza Per cui le deleghe papali sono temporanee per casi specifici Mentre con l'inquisizione moderna e parliamo del 1542 per volontà del Papa Paolo III abbiamo appunto la Santa Romana Inquisizione Che attiva una struttura verticistica con una congregazione di cardinali a Roma Molto gerarchica con una rete capillare nel territorio Quindi la nostra documentazione permette di indagare interamente E anche questo sviluppo insomma, quindi questo anche inutare nelle intenzioni e nel carattere di questo Certo, le forme organizzative, i rapporti con il potere, i poteri locali Il potere ecclesiastico rappresentato dal Vescovo e il potere secolare rappresentato dal Duca Consideriamo che abbiamo esposto nella prima teca la lettera patente di nomina del primo inquisitore generale di Modena Che è Giovanni da Montefalcone che era a priore dei dominicani di Modena E questo si dice espressamente nella lettera viene incaricato per la sua prudenza Con prudenza si intendeva la capacità politica di collaborare e rapportarsi appunto con il Vescovo e con il Duca Che è fondamentale perché il Duca concedeva il braccio secolare Il braccio secolare permetteva l'arresto dei rei e al braccio secolare toccava eseguire la condanna capitale Quindi i rapporti andavano politici Chiaro, gestire questi rapporti tra potere spirituale e potere espressione Potere spirituale e potere temporale sicuramente richiedeva capacità e una nomina assolutamente Un'altra teca che ha esaminato in particolare la professoressa Grazia Biondi Affronta un caso di conflitto di poteri che avviene a Carpi negli anni 30 del 600 Attorno a una possessione demoniaca collettiva che avviene all'interno del convento femminile di Santa Chiara di Carpi Ma dietro al quale in realtà si muovono delle forze di potere C'è una lotta di supremazia tra eminenti personaggi ecclesiastici Quindi l'abbadessa che tra l'altro era in origine figlia del duca Cesare d'Este Che è in contrasto con il fratello che nel frattempo è diventato un frate cappuccino Ma aveva regnato per otto mesi come duca e la ciprete locale Quindi in realtà ci sono dinamiche di racconti e di relazioni anche familiari Che poi dopo si sviluppano e che sicuramente nascondono dietro nel non detto e nel non dichiarato Aspetti che invece assolutamente andavano gestiti Allora come oggi mi viene da dire C'è da sottolineare come la ricchezza di testimonianze, la qualità anche, l'eccezionalità A proposito dell'eccezionalità, l'altra cosa divertente che si può sottolineare È che l'archivio è collocato nell'antico convento dei Domenicani Ecco, ecco, non a caso, esatto E le carte sono tornate a casa L'altra cosa che mi piace sottolineare Perché mi sembra un aspetto che andrebbe indagato Ercole III non è stato studiato molto La sede del Tribunale, dunque allora il complesso la presente, l'intero isolato Sì, certo Dove adesso c'è in parte l'archivio di Stato, l'Ulceo San Carlo e l'Accademia di Belle Arti Sì Bene, la zona del Tribunale in quanto tale è quella che attualmente è l'Accademia di Belle Arti Ah, ecco, proprio quella Ed è stato proprio Ercole III a trasformare la sede del Tribunale in scuola di Belle Arti Quindi è simbolico tutto questo Rovesciato Lo trovo completamente Quindi, diciamo, la costruzione dell'Accademia si deve proprio a Ercole III L'impostazione della facciata E lì, così, proprio dove c'era il Tribunale dell'Inquisizione, facciamo scuola di Belle Arti È insomma, davvero tanti, tanti gli aspetti da cogliere, da capire, da comprendere A più livelli, sottolineiamo in ultimo anche questo Perché sì, è un'esposizione che sicuramente si presta all'occhio attento degli studiosi, dei professionisti Anche di storia e di ricerca Però si rivolge, perché no, a chiunque Perché lo scopo anche negli ultimi anni, insomma, dell'attività dell'archivio di Stato È quello di divulgare la propria ricchezza e il proprio patrimonio Il primo maggio abbiamo fatto un'apertura straordinaria che ha avuto notevole successo Anche se è stata organizzata proprio all'ultimo momento, diciamo Per cui non ha avuto possibilità di essere molto comunicata Però abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico Proprio dimostrazione di come questi temi, trattati seriamente Ma trattati anche in maniera comprensibile E adesso speriamo di avere anche ulteriori visitatori Riscontri anche con questo, naturalmente Allora, lo ribadiamo fino al 20 di settembre Per cui questa volta siamo arrivati per tempo Anche con l'attività di comunicazione, di divulgazione di questa Che è una mostra davvero interessante Dalle tante facce, dai tanti aspetti Che meritano di essere compresi e approcciati Eresie e magie tra Modena e Bologna E a cura appunto dell'archivio di Stato di Modena Io ringrazio tantissimo le mie ospiti Per essere state nuovamente qui E per averci dato l'occasione ancora una volta Di conoscere questo immenso patrimonio E questa intensa attività che portate avanti Complimenti, grazie davvero Adesso una brevissima pausa, poi proseguiamo Grazie